Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, finalmente sono tornato nella Batcaverna dopo un'intensa settimana a Milano per la E-Serie A-Team Playoff che ci hanno garantito l'accesso alle Final 8 che si terranno tra fine mese e inizio giugno in una location epica Quindi ieri ci ho tenuto a portarvi il vlog sull'esperienza, visto che il primo episodio vi era piaciuto tanto Spero anche questo, se non l'avete visto, andate a recuperarlo Oggi di martedì vi porto invece la classica analisi gameplay E ci tengo particolarmente visto che è terminata la regular season per quanto riguarda le FGS di quest'anno E hanno visto l'Italia veramente concludere col botto Il nostro Cosimino è arrivato nella finalissima contro Hashtag Tom Venendo alla loser bracket, quindi doveva riuscire nell'impresa di portarsi a casa due round al meglio delle due partite Il primo turno se l'ha giudicato e oggi ci andiamo a vedere l'ultimissima partita Ovvero il match di ritorno dopo l'andata terminata 2-2 del secondo turno Quindi partita da dentro fuori Senza perderci ulteriormente in chiacchiere Passiamo subito sulla schermata di gioco Dove ci attende la nostra lavagna tattica e al solito la partita Da sinistra verso destra attacca Hashtag Tom Da destra verso sinistra invece va Cosimino in maglia arancio E vediamo subito le due squadre schierarsi in campo in maniera speculare al momento 4-4-2 per entrambi gli sfidanti Con Tom che cerca di far fruttare come al solito questo kickoff al massimo Qui si era aperto un bel corridoio Guardate qui, qui subito una prima azione che possiamo andare ad analizzare E vi invito anche a guardare quella che è la reazione di Tom Qui in basso a sinistra dello schermo Perché guardate qui, qui si apre perfettamente Ok, la linea centrale di passaggio per il Cristiano Ronaldo che arrivava Però Mbappé fa un passaggio molto molto ambiguo Qui la giocata era fare un bellissimo doppio tap Quindi doppio tasto passaggio per fare un passaggio a mezza altezza Che mandasse fuori giri il difensore centrale Invece guardate qui che cosa ne esce fuori E vi ripeto esilarante la reazione di Tom Che non se l'aspettava E in effetti non ha veramente senso questo passaggio fatto dal buon Kylian Guardate Tom com'è aggressivo E porti immediatamente i suoi centrocampisti centrali Alla caccia del pallone Qui Mendy subito ringhia sulle caviglie di Atal Insomma per mettere le cose in chiaro Tentativo di player lock Dinamica che abbiamo ormai imparato a conoscere Che ci permette di poter selezionare il ricevitore di palla in anticipo Però era semplicemente un bait No come si dice in gergo Ossia un tentativo di far cascare l'avversario Qui gran giocata da parte di Tom con Cristiano Ronaldo Che guardate come va a costruire benissimo quella che è la situazione tunnel direzionale Guardate semplicemente girandosi e rigirandosi Andando a porsi nella classica situazione di giocatore più o meno sui 45 gradi E va a buttare la palla col tunnel direzionale lungo questa traiettoria Per poi andare ad aggredire Si viene a creare una bellissima separazione Che gli permette di concludere con questo mancino di Cristiano A incrociare Magari anche per trovare la ribattuta di Mbappé a porta vuota Ma non accade Qui guardate come cancella anche benissimo la skill Sia con Atal che con Bruno Fernandes Per girarsi in un fazzoletto E qui il gol poi arriva ed è una grandissima giocata questa di Tom Riguardiamola perché questa è una costante questa giocata qui Ed è una costante che mi ha portato a elaborare un videino Nel quale ne andiamo a parlare con calma Credo che uscirà giovedì Perché guardate qui Tom come si ferma la grandissima Subito l'elastico per andare a liberare il sinistro E qui è una saracca fortissima sul primo palo Non può nulla pop e non può nulla il Varane Che rimane un attimino impalato Una volta che l'elastico va appunto a lasciarlo sul posto Quindi 1-0 per Tom dopo pochi minuti Siamo infatti al decimo E dopo una bella azione Che forse meritava la rete già in precedenza Con quel sinistro di Cristiano Ronaldo Dopo la bellissima azione solitaria Ma sappiamo bene che Cosimo è uno che insomma non molla È uno che rimane dentro alle partite fino all'ultimo secondo Tant'è vero che è riuscito a strappare il pass Per questo torneo Addirittura battendo Guarino In un match che era sotto fino all'ultimo secondo Pareggia al novantesimo Addirittura poi la porta a casa Ai rigori Veramente mai insomma dar per vinto Cosimo Che è duro veramente a morire Qui però hashtag Tom sembra molto più in palla del nostro italiano Sembra averlo studiato per bene nelle tre gare precedenti Adesso sembra avergli preso le misure Ricordiamo che Cosimo venendo dalla loser Era sicuramente più in palla rispetto al suo sfidante Che invece ha dovuto aspettare un'oretta Un'oretta e mezza dal suo ultimo match Prima di poter giocare Quindi magari si era un attimino raffreddato Qui guardate come danza hashtag Tom Sulla linea della tre quarti Guardate come si gira e si rigira su se stesso Aspettando quelli che sono i movimenti automatici Lui non voleva far altro che appunto Far rientrare questo Cristiano Ronaldo nella zona di campo E poi farlo inserire tra i due centrali Per servirlo e mandarlo in porta Cosa che purtroppo non è riuscita Perché arriva a Viera col suo piedone A risolvere la situazione Che ormai era diventata spicolosa Per Cosimino Allora può ripartire subito il fast break Per Cosimo Palla per Viera A scambio con Bruno Fernandes Ancora Viera Che allarga a breve nella zona di Cristiano Ronaldo Che cerca subito lo scarico su Neymar Guardate Cosimo Come velocizza la giocata Senza mai però andare a esagerare Senza mai andare a scoprirsi troppo E a esporsi a quelli che possono essere poi letali contropiedi Da parte del suo avversario Ma gestisce sempre ogni possesso Veramente con il contagocce Per cercare di aprire dei varchi Nella difesa avversaria Ma qui si ritrova contro un avversario Che attualmente è il primo in Europa E si sa che l'Europa è la regione più tosta A livello di competitive di FIFA Quindi possiamo tranquillamente dire Che è il primo al mondo Il buon Tom Anche per quanto riguarda Quelli che sono i punti Cosimo ovviamente Sa che i numeri sono solo tali Quindi cerca di imbastire un'azione offensiva Ancora una volta con Viera Che è praticamente perno Della manovra offensiva Nonostante sappiamo bene che Viera Insomma si è un giocatorino Che non è proprio Sua tecnicità in persona Intanto però la palla La sta muovendo discretamente bene Qui Mbappé va a liberarsi Reverso elastico Per andare a Prender campo Ancora una volta poi Tacco tacco Reverso elastico Ma era la seconda skill di Fila E allora il pallone si sgancia Dai piedi di Kylian E facile preda di Di Tom Che guardate qui con Il player lock Come va immediatamente a Riprendere Neymar Per far si che Rientri dal fuorigioco Senza affidarsi appunto A quello che era il movimento Della CPU Qua Varane fa Un vero e proprio goal Perché nel 70% di casi Raga vi giuro Nel momento in cui voi Andate a buildare Questa situazione qua Di tunnel direzionale La palla vedete Si va praticamente A congelare sul piede Del difensore Non succede mai Che in estirada Venga poi spazzato Ma c'è sempre Quel momento di indecisione Che permette all'attaccante Di recuperarlo E involarsi Qui invece Varane È bravissimo Con questo intervento Automatico A evitare guai peggiori Sfera che però viene recuperata Immediatamente da Tom che ancora una volta Guardate lì come Annulla benissimo La skill E questo è veramente Un grandissimo goal Questo è un goal Che nasce tutto Da quella skill Annullata da parte Di Bruno Fernandez Guardate qui Palla che va a creare Praticamente Un buco centrale Un corridoio centrale Per l'inserimento Di Brunello stesso Scusate Di Cristiano Ronaldo Che guardate qui Come annulla benissimo La skill Forza lo switch Quindi Viera Vedete come viene switchato Su Gomez Per andare a coprire Questo Mbappé Tom da Campione qual è Ha già visto Questo corridoio Nel quale sta arrivando A tutta velocità Brunello Fernandez Che di fatti Va a punire Cosimino Nonostante avete visto Come fosse stato reattivo Nell'andare a selezionare Gomez Capendo quelle che erano Le intenzioni Dell'avversario Però ormai La distanza Tra l'attaccante E il difensore Era tale Da appunto Impedire Qualsiasi tipo Di intervento All'inglese Quindi 2 a 0 Al 35esimo Da parte di Hashtag Tom Che sta veramente Conducendo Lo ripeto In maniera impeccabile Questa partita Io ho un debole Per come gioca Per come gioca Tom Così come un debole Per come gioca Cosimino Perché entrambi Hanno uno stile di gioco Che insomma Se seguite un po' Il canale Ormai Avete capito Se seguite un po' Le streaming È basato Anche il mio Su Possesso palla Ricerca degli spazi Senza andare a forzare Troppo le giocate E velocizzare Negli ultimi metri Quindi diciamo che Quando guardo Giocatori di questo tipo Mi luccicano gli occhi Ed è anche un po' Due stili a confronto Perché sono Praticamente Due giocatori Non dico Speculari Ma quasi E di fatti Vedere Cosimino Sotto il 50% Di possesso palla In questa partita Già ci dà Un'indicazione No? E funge da indicatore Su quello che è appunto Anche lo stile Di Tom Che non è assolutamente Da meno Qui James fa Un grandissimo intervento Su Cristiano Ronaldo Che poteva involarsi Con un tunnel direzionale Ma invece viene braccato Siamo al minuto 44 Qui Tom cercava Di fare l'ultima azione Che invece Si tramuta In palla pericolosa Per Cosimo Che con il player lock Fa benissimo Rientrare Mbappé Poi si cerca ancora Una volta l'elastico Che però non riesce Guardate qua Qui se Cosimo Non avesse preso Preventivamente Mbappé Questo Mbappé Avrebbe continuato La sua corsa furiosa Finendo probabilmente Anche in fuorigioco Vedete Invece Andando a prendere Il player lock Guardate poi Tom Come bravo e reattivo Subito a cercare Di mettersi sulla linea Mbappé viene fermato E viene fatto indietreggiare Per cercare di smarcare Quella che è la linea di passaggio Cosa che poi va Effettivamente ad accadere Guardate Neymar Che va a servire Mbappé Mbappé un tacco tacco A prendere campo Poi l'elastico Per liberare la conclusione Di Mancino Che aveva fatto prima Le fortune di Tom Ma invece non fa Le fortune di Cosimino Palla poi Scucchiaiata All'interno dell'area di rigore Però Messa fuori comodamente Da Mendy E finisce sul risultato Di 2 a 0 Il primo tempo Di questa Grand final Tra il player inglese E il player italiano Che riparte All'arrembaggio Nel secondo tempo Con Questo kick off Almeno si spera Che si tramuti In qualcosa Di buono Palla verso Atal Che cerca di Favorire la corsa Di Mendy Palla poi Per Brunello Fernandez Che vede Cancelo Sull'out Di destra Vedete come cerchi Di sfruttare I terzini Cosimo Come ci aveva Abituato a fare E che non accadeva Ormai da Da tempo Perché durante La prima partita Durante il primo tempo Non l'avevamo Visto fare Qui grandissima Giocata di Cosimo Perché veramente Era difficile Ma Giocata superlativa Difensiva Da parte di Tom Perché qui In questo contesto Qui Banalmente Gli vai a marcare Il sinistro Vai a marcare Un eventuale Tacco-tacco Un eventuale bridge Un eventuale tiro Sul primo palo Cosimo invece Fa la cosa più difficile Ossia fare Un reverse elastico Per fare questo movimento Rientrare E scaricare Poi di destra In porta Tom è Praticamente Di ghiaccio Guardate lì com'è Si piazza davanti Aspetta Dice ok Vai lì Ci sono Vai giù Ci sono E perfettamente Interviene E la palla Scivola Comodamente Sul fondo Ma qui Tom ha fatto Veramente Un gol Ha fatto una giocata Difensiva Pazzesca Rilancia subito L'azione Con Mendy Ronaldo Gli fa da Pivot Lì davanti Con Questo tentativo Di inserimento Da parte di Atal Che viene utilizzato Semplicemente Come Esca Per la difesa Avversaria Mbappé Si teletrasporta All'interno Della area di rigore Ma il passaggio Di Ronaldo Lì ovviamente Impreciso Allora Di rimessa Stavolta Riparte Cosimo Guardate Mendy Come si Butta In maniera Forsennata Alla ricerca Degli spazi Lì davanti Palla ancora Verso Neymar Che cerca Patrizio Viera Per liberare Al tiro I suoi Cristiano Ronaldo Cerca Con questa crocchetta Di prender campo Subisce anche fallo C'è il vantaggio Guardate qui Come la palla Poi riesca Ad arrivare a Mendy Con pazienza A sfruttare L'inserimento Viene però Braccato E riparte A massima Velocità Con questo Player lock Ancora una volta Tom Guardate Giocate che Sembrano magari I più apparentemente Difficili Come risultino Automatiche E velocissime Per giocatori Di questo livello Il player lock Che magari Vi ripeto Una roba Che spesso Viene ignorata Viene praticamente A essere inserita All'interno Di quello che è Lo skill set Base Di questi Di questi Giocatori Qui Bello tutto Però goal Che è Molto 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 Fortunato Questo Da parte Di Tom Perché Bella La giocata Qui Per liberarsi E bello Anche L'inserimento Di Neymar Però Il passaggio Qui Non c'era Qui Magari Io avrei tentato Più un tacco Tacco Per cercare Di mettere A sedere Il portiere Qui Invece Ne esce Questa Deviazione Sporca Per la Rete Che vale Il 3 a 0 Del Player inglese Che ormai Diciamo Si sente Abbastanza Sicuro Del Match Anche Di Poter Far Qualcosa Qui Palla Che viene Scucchiaiata Con questo Filtrante Alla ricerca Di Mbappé Però Scivola Comodamente Sul fondo E non riesce A intervenire Cosimino In zona Pericolosa 65esimo Palla Verso Adama Traore Che è entrato Per cercare Di dar Manforte Alla Compagione Di Tom Qui guardate Ancora una volta Il player lock A cercare Cristiano Ronaldo Completamente libero Sul palo opposto Questo però Era una conclusione Al volo Volante Un po' Troppo ardita Sotto sto punto di vista Quindi E' comoda Presa Da parte Di Pop Qui Scaraventato Per terra Cristiano Ronaldo Palla dentro Verso Neymar Ma c'è L'ottima Chiusura Qui da parte Di Bender E ormai Sono saltati Un po' Tutti Tutti Gli schemi Vedete come c'è Una gran facilità Di gioco Su quell'out Di destra Ma anche Sull'out Di sinistra Da parte Di Tom Che va A sfruttare E cogliere Fuori ruolo I giocatori I giocatori Avversari Palla dentro Verso Joao Cancelo Che Balla Sulla Sulla linea D'aria di rigore Palla scodellata Che anche qui Probabilmente Scelta sbagliata Però Fortunato Poi nel Rimpallo Mbappé E allora Arriva il più facile D'etapin Rete del 4-0 Dico scelta Forse sbagliata Perché guardate qui Tom Quanto è bravo A danzare Guardate Guardate quanto è bravo Qui a danzare Sulla linea Di Praticamente Dell'aria piccola Qui Banalissimo Driven pass Tasto del tiro a giro Più Tasto del passaggio Sarebbe uscito Appunto Un passaggio forte Teso al centro E sarebbe stato facile Per Atal Metterla dentro Invece Cerca questo Scavino E insomma Deve arrivare L'intervento Fortunoso Di Mbappé Per Praticamente Sigillare Il Game Che però Non è Non è finito Mancano 20 minuti E sappiamo Che le finali Vanno giocate Fino alla fine Non siamo purtroppo In weekend league Dove sul risultato Del genere Dici Vabbè Mochacuito Invece no Partita che deve essere portata a termine Con massimo impegno Anche da parte di Cosimino Che comunque Vedete come Cerca sempre di dare Il meglio di sé In qualsiasi giocata Qui si gira benissimo Con questa crocchetta Ma ancora una volta Bender su Cristiano Ronaldo Veramente Imperioso Palla poi verso Neymar Junior Bappé La recupera Addirittura in Posizione da mezzala Guardate ancora una volta Il player lock Come va a beitare Cosimino Che aveva marcato Da Matraore Poi il player lock Inannullato Bappé si gira E va a fornire la palla Centralmente Arrenato Cristiano Ronaldo Qui cerca di attirare fuori I giocatori Avversari Sbaglia Il tunnel Cosimo Ne esce Un tentativo abbastanza Abbastanza maldestro Palla verso Neymar Che scarica fuori Verso Tavernier Brunello Fernandez Si gira in Rapidità su se stesso Palla poi Verso Neymar Chiuso da Mendy Qua cercherà sicuramente Il filtrante Su Adama Palla infatti Che viene scucchiaiata Sta arrivando Bappé L'ha visto Tom Palla che però È troppo lunga Gli si disaggancia Arriva poi l'aggancio Sul giocatore Sbagliato Palla recuperata Da Neres Con questo capello rosso Che mi sembra Più Ron Weasley Piuttosto che Ken Neres Palla Verso Cristiano Ronaldo Che viene lavorata Benissimo Al limite Guardate lì come Non forza mai Palla dentro Ancora Verso Cristiano Che qui tenta Il tiro a giro Forse un po' forzato Perché c'era ancora Qualche scambio Che poteva giocarsi Tom lì Al limite dell'aria E invece La palla Viene recuperata Dalla difesa Ancora Tom Lì davanti Con Renato Sanchez Che viene intercettato Da Brunello Fernandez Contropiede da parte di Cosimo Con Tom che si fa trovare Scopertissimo Qui c'è una prateria Per Tavernier Poi per Neymar Palla verso Atal Che praticamente Non ha più stamina Grandissima giocata di Atal Miracolo sulla linea Ma arriva poi la rete Di Bappé Che passa sotto le gambe Di Mendy A siglare Il 4 a 1 Mentre sull'agricade Siamo sul 6 a 3 Però poco importa Visto che era un risultato Di parità Comunque risultato totale Di 6 a 3 Dopo praticamente 180 minuti Che va a Incoronare Hashtag Tom Campione europeo Per quello che è stato Il regional qualifier Numero 5 Che ci proietta Spediti ai playoff Che si terranno Nella prima settimana Di luglio E in più Questo fine settimana Ci sarà la E Champions League Quindi la Champions League Virtuale Dove abbiamo diversi italiani Qualificati tra i migliori 32 Per giocarsi L'accesso ai migliori 8 Lo commenterò sul mio canale Viola Quindi vi aspetto A partire dalle 5 Sia sabato che domenica Un salutone Un abbraccione Al vostro Liberoschi Fatemi sapere Che ne pensate Di questa partita Ancora una volta Complimenti a Cosimo Per il risultato raggiunto Perché un secondo posto E pur sempre un secondo posto Contro un mostro sacro come Tom Ci vediamo ogni giorno Sulla piattaforma Viola In descrizione trovate tutte le info E nulla raga Statemi bene Ciao 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 ciao